prendere troppi soldi, ed è la tazza, noi abbiamo messo la foto di Berlino, qua eravamo di fronte a Reichstag nel Prato questa è una delle foto che è stata di profilo, poi siamo stati a Malta, poi ora vengo da un weekend da Grigento insomma, pian piano io cambio l'immagine di profilo in base all'ultimo posto in cui andiamo chiaramente ho premuto per questi viaggi vicini, tra virgolette, agosto-dicembre, perché io non ho ferie quindi se ne parlerà ad agosto ed è bellissima